Ciao ragazzi, nuovo video, brevissimo, solo saluti, in questo video vi saluterò, saluterò quelli che mi hanno richiesto di essere salutati, ma non voglio solo fare video di saluti, se riesco Allora, video molto mosso senza microfono, spero che mi sentiate, sono un po' al buio, un po' alla luce, c'è un po' di sole, sono le 7 di sera, appena piovuto Allora, saluto Elena Venditti, saluto Fabiola Zanotti, saluto Miriam Amendola, saluto Aria, ho il quaderno qua sotto, se mi vedete guardare sotto Raffi, Raffi, Raffi ASMR, Raffaella ASMR, dovremo anche collaborare io e te, il video io ce l'ho pronto, brush in camera, fammi sapere se sei disponibile Cioè, quando è pronto il tuo video, lo carichiamo insieme, lo stesso giorno Francesco, Manzi, 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 Chiara, Cici, 24 Celeste, Disco, Trainer, 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 Disco, Trainer, Trainer Elena Venditti, Miriam Amendola, Donia, 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 Dema, Dema, Donia, Dema Raniero, Raniero, Ferro, 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 Ferro Luna, 2009, Luna, 2009 Rita 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 Magalis Magalis Geragioli 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 o Geragioli Geragioli Ditemi come si dicono i vostri cognomi, che sono complicatissimi, quasi tutti Chiara Cici, 24 Federica C Magalis Geragioli Geragioli C'è il vento sentite il rumore Raffi ASMR Rita Rita Alessio Merola Giovanni Francese Ellie Love ASMR Luna 2009 Francesco Manzi Celeste Miriam Amendola Disco Trainer Disco Trainer Disco Trainer Disco Trainer Synergy Fabiola Zanotti Tonia Dema Aria 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 E' una ragazza si chiama Aria Miriam Amendola Federica C Jessica 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 ASMR la mia amica E' poi anche un'altra Jessica Whit AJ ASMR Ludovica Mabilia Raniero 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 E' poi Federica Giulia Federica Vertemati Vertemati Maria Ioana Ioana Arapaggio 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 con l'H H A R A B B di Bologna A G di Gatto I U Basta Vi saluto tutti 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 vi ho salutato tutti già altre volte ho salutato altra gente grazie a tutti quelli che mi seguono quelli che mi commentano tutti i video grazie 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 a tutti disco trainer synergy grazie a tutti Deppi grazie a Pina grazie a Ilenia grazie a Alessandra Alessandra del Relax Pina Ava 79 Ilenia country girl ciao a tutti Sara Anne Maud ciao 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 Elena Venditti Elena Venditti Elena Venditti Alessia Alessia ASMR channel Alessia Monica Arasule ASMR Pink Whispering Attonella fantastica ciao 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 Grazie a tutti